Ciao Disasters, io sono Sofia, benvenuti e bentornati nel mio canale. Nuovo mese, nuovo appuntamento con i video mensili. Oggi parliamo di marzo. Devo dire che mi piace tantissimo questa tipologia di video, tipo diario ogni mese. Spero che duri fino al 2022. Come è andato questo marzo? Come va la situazione pandemia a Londra? Come sta procedendo? E piuttosto, quando se ne uscirà? Marzo è stato un mese molto bello. Le prime due settimane sono state in Italia, quindi sono stata con i miei genitori. Ho mangiato la mia pizza preferita, sono andata al mare, ho mangiato tante cosine buone. Insomma, sono stata davvero bene, quindi sono felicissima. Finite le due settimane in Italia, sono ritornata in Inghilterra per causa lavoro. E ho dovuto fare la quarantena, tutta la tiritella, i tamponi e tutto quanto. Quindi ho fatto anche un video al riguardo, ve lo lascio qua sopra da qualche parte, anche per tutte le cose da sbrigare burocratiche. Quindi se vi serve o siete curiosi, andate a dare un'occhiata di quel video. Faccio vedere come ho fatto il tampone, cosa c'è da fare, i documenti che servono, insomma, tutto quanto. Durante la quarantena ho avuto l'occasione di pensare ai miei piani futuri, cioè ci penso costantemente, però sono venuta a capo di qualcosa. Le idee cambiano costantemente, però è da tanto che ci penso e spero di poter realizzare quello che sto pensando. Diciamo che mi sono tenuta impegnata con cose super positive. Ho lavorato i miei video di YouTube ed ho pensato a come migliorare la qualità e la comunicazione del mio profilo Instagram. Anche se adesso che ho ricominciato ad uscire e finita la quarantena, grazie a Dio, vi porto un po' a respirare aria fresca e posti nuovi. Colgo l'occasione per dirvi di iscrivervi al mio Instagram, potete trovare il link qua sotto in descrizione perché sono super attiva, vi faccio vedere i posti che visito, cosa faccio, faccio domande, sondaggi, vi anticipo i prossimi video. Quindi, se volete, potete andare a seguire anche là, oltre ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina per ricevere ogni notifica per i prossimi video. Tutto sommato, ancora non si possono dare conclusioni frettate per questa situazione generale, ma posso dirvi che in UK stiamo andando per step. Il 12 aprile riapriranno i negozi non essenziali, poi pub all'aperto, piano piano riapriranno i ristoranti, musei, teatri, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, piano piano, a scaglioni, ecco. Fino a fine giugno non si potrà uscire dall'Inghilterra se non per motivi davvero validi, se no sono 5.000 round di multa per chi fa le vacanzette. E speriamo appunto di essere ok entro fine giugno, dato soprattutto il rispetto delle regole, nel senso di come ci comporteremo noi quando tutto riaprirà. Speriamo vada tutto per il meglio e siamo super positivi. Ho deciso, siccome quest'anno rimarrò a Londra fino a fine anno, quest'anno me lo sono presa per nuove avventure, per vedere posti in Inghilterra, visto che dentro l'Inghilterra si potrà viaggiare. Quindi vorrò vedere posti che non ho mai visto, quindi vi porterò in giro per l'Inghilterra, vi farò vedere tantissime cose di Londra, farò un sacco di vlog. Quindi, appunto, iscrivetevi al canale per vedere tutti i vloggetti di Londra. Quindi devo dire che sono abbastanza positiva, nel senso non me la sto prendendo male, quindi mi sono presa questo ultimo anno per godermi le persone che ho conosciuto, le persone che voglio conoscere, perché ci sono alcuni di voi su Instagram che sono qua a Londra, quindi ovviamente con la debita distanza voglio incontrarvi e voglio conoscervi. E voglio sfruttare tutto quello che ho, senza prendermi male e dire oddio voglio andare via da Londra, voglio andare al mare. No, perché così tanto non si risolve niente, quindi positiva, stay strong e godiamoci questa Londra. Anche perché poi una volta che me ne andrò, se verò qua, sarà o per cose burocratiche o per viaggetti brevi, quindi me la voglio vedere il più possibile. Qualche giorno fa sono andata ad Amsterdam con un'amica e sono stata benissima. È stato veramente fantastico, è una giornata fantastica e ho scoperto anche qualcosa che non avevo mai visto e Londra mi sorprende sempre. E devo dire che anche la lontananza per un mese da Londra mi ha aiutato un sacco e quindi sto davvero davvero carica. Per il resto non vedo l'ora che arriva l'estate, che arriva agosto, che arriva il caldo, anzi soprattutto agosto, perché voglio vedere il mio fidanzato, che sono mesi ormai che non vedo, e ovviamente con questi capelli da pazza, quando rinizierò a lavorare vi aggiornerò sulla situazione lavorativa, quindi farò un video su come tornare al lavoro, come stanno prendendo un po' la situazione qui in Inghilterra, quindi vi terrò aggiornati su tutto. Scrivetemi in un commento come è andato il vostro marzo, che avete fatto, cosa state progettando, che avete progettato, insomma, lasciatemi un commento e fatemi sapere. Spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mettete un bel like e quindi niente, vi mando un grandissimo bacio, un grandissimo abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!